Uno striscione fuori dallo stadio a Piani, lato via 58esimo Fanteria, con una scritta fascista in caratteri fascisti contro l'assessore regionale il padovano Roberto Marcato. Autori gli ultras del Padova che non hanno gradito un post del politico della Lega sulla morte di Gino Strada di cui l'assessore Veneto elogiava le virtù umane. I suoi seguaci non hanno però apprezzato e hanno commentato il pensiero sul profilo con frasi ingiuriose contro Marcato e contro il fondatore di Emergency. A quel punto l'assessore della Lega è intervenuto con parole dure come via i fascisti dalla Lega, di cui l'evidente risentimento dell'estrema destra. Francamente non capisco questo attacco visto che la mia posizione sui fascisti è nota da tempo, sono molto sereno e sono profondamente convinto che nella Lega ci sono valori non negoziabili. I fascisti se ne facciano una ragione, ci ha detto al telefono Marcato. Ho sempre detto con fermezza quello che penso e non ho mai messo in discussione le mie convinzioni per un voto in più o per una carega. Credo che l'onestà intellettuale sia un patrimonio imprescindibile per un politico ancora di più se amministratore. Da Buon Veneto mi sento assolutamente serenissimo. Sulla scritta apparsa allo stadio Appiani sta già indagando la Digos.